Buongiorno ragazzi, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog, come va? Spero bene, allora. Dunque, questo video vlog è un video perché oggi vado a fare la spesa e poi ovviamente torno a casa, se riesco, faccio il video e svolto la spesa. Non vi prometto nulla perché, come sempre, i miei video, ahimè, non dipende da me, ma il telefono è quello che è vero. C'erano 128 GB, ma non ho detto che riesco a registrare tutta la spesa. Forse il video svolto la spesa ve lo faccio, se no, amen, ciccia. Comunque, voi come state? Non so quante volte ve l'ho chiesto, comunque spero che siate bene. Allora, nulla, mi devo mettere a fare quali sia sul mio letto, cioè a fare il letto, ma questo ve lo risparmio perché tanto avete visto un sacco di volte come faccio il mio letto, ma nulla. Forse questo pezzo ve lo velocizzo se lo faccio e nulla. A dopo, dai. Eccomi qua. Allora, ho appena fatto il letto, come avete visto. E' nulla. Tra poco esco a fare qualche passeggiatina, devo anche andare a prendere delle cose per fare la spesa. Ehm, nulla. Oggi non ho idea di che cosa cavolo potrei fare. Vabbè, niente dettagli. Devo anche sapolverare qua questa postazione perché è di nuovo un disastro. Vabbè, nulla. Non è proprio pieno di polvere, ma vabbè, nulla. Comunque, se riesco a fare la spesa, perché non ho più nulla in casa, però dovrei fare la spesa perché mi necessito di comprare qualcosa. Perché, perché sì, ragazzi, basta. Mi serve la spesa e basta. Ancora non ho idea di cosa prendere, però intanto mia nonna sta facendo la lista della spesa. Ehm, e niente. Non è che decido io di fare la spesa, è lei che decida perché è lei che comanda in questa casa. Vabbè, e se va a me. E niente. Comunque, ehm... Qua, come, non so, per da ieri, avanti, no, da ieri ce l'ho, bugia, ce l'ho da ieri, più ce l'ho i miei, aspettate un attimo, vediamoci vedere, ce l'ho i miei pantaleggings, e niente, più i miei pantaleggings, e poi nulla, nulla, oddio, mi frutto il naso, non so perché, e basta. Poi, cos'altro devo dirvi di bello, volevo appunto uscire a fare una passeggiata, mi dovrò ridefinire le sopracciglia se ne voglio, se no, ciccia, non me li ridefinisco, vediamo. E basta. Allora, nel frattempo ho questo. Gli era scappato uno sbadiglio, ma ragazzi, era inevitabile, vabbè, comunque, eh, si è stoppato perché stava facendo uno sbadiglio che sembrava un orso, non so, se mi spiego, ma, quando ha sbadiglio, non sono per niente delicata, quindi, no commenta. Allora, dunque, a parte i scherzi, è così. Se vedete che questo coso, ma, questo bastone del selfie è perché sono pronta a vloggare, a fare qualche vlog, vabbè, che questo è un video vlog, già dall'inizio, non so quando lo metterò online, spero subito, perché non voglio fare un video di due ore massimo, perché, o massimo due ore, dipende dalla circostanza, di tutto ciò che avrò da dirvi, se mi rimane qualche altra cosa, se voglio ve la dico in un altro video, ve la scrivo nell'info box, come faccio le poche volte di Papa, che faccio, ovvero, con le poche volte di Papa, vi scrivo tutte le cose che non ho potuto fare in questo video, che magari faccio nella realtà, come per esempio, guarda qualche film, serie tv, no, serie tv no, perché altro, tutte quelle cose che guardo in tv con mio grande fratello, ma anche no, perché tante volte guardo altre cose, tipo, dov'è, io ne ho guardato la tempesta d'amore, non so se alcuni se lo guardano, ma io me lo guardo, comunque, sì, mi porto questo, se casomai non lo uso, pazienza, ma lo uso perché ho paura che il telefono mi casca da mangi, sono maldestra, quindi, questo è super utilissimo, Ah, se vedete questo gingillo, questa cosa qui, che, come dire, che, non vi allungo le parole, aspettate, ah, che è accangerto a questo, perché serve per mettere muto il video e parlare col parlato sopra, ma io in questo caso non lo faccio, perché una volta l'ho fatto, mi sono trovata malissimo, normale, ultra male, perché non si sentiva un aciderboli, e più ho dovuto fuorifare tutto il video, perché non è che mi è scocciato, ma potevo evitare di mettere questo impiastro qui sul cosino del telefono, quindi, cioè, sull'incastro del telefono per ascoltare la musica, qualche, comunque, stamattina penso che farò altre cose, e vabbè, lo vedrete man mano che passano i videoclip, cioè, man mano che passano i videoclip, adesso, nel frattempo, mi vesto, perché, cioè, sono già vestita di mio, però, ho bisogno di mio, perché altro, ho messo le pantalekins, questa maglia qua, che già state vedendo e stravedendo, mi devo mettere le scappe da tennis, o gli stivali della Enversoft, vediamo cosa mi gira, mi sa che però mi metterò gli stivali della Enversoft, sì, sono indecisa, l'avete capito, lo so che sono indecisa, ma in qualche modo dovrò vestire qualcosa, perché mica posso andare in pantofola, cioè, è nulla, allora, la borsa, tanto, rimane sempre identica, la stessa, e di là, a fianco al cavalletto, è nulla. Dunque, 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 adesso io stop e ci vediamo dopo, dai. Dunque, 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 dunque Grazie per la visione 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 Grazie per la visione